Centro Formamentis, lezioni private, corsi di lingue e di musica a Sondrio. Rimane alto l'allarme in seguito alle segnalazioni riguardanti i comportamenti pericolosi adottati dai ragazzi nel complesso scolastico di Sondrio. Gli studenti, ignorando le più elementari norme sulla sicurezza, sono infatti soliti attraversare a piedi binari ferroviari, trovando questo sistema più rapido e comodo rispetto al più sicuro sottopassaggio. I ragazzi non sembrano rendersi conto dei gravi pericoli in cui potrebbero incorrere e sono in molti a giustificarsi, spiegando di basare gli attraversamenti dei binari sugli orari dei treni, in modo da non correre rischi. Il pericolo è concreto e le istituzioni si sono mobilitate per arginare un fenomeno che purtroppo sembrerebbe essere sempre più virale. La prefettura di Sondrio ha allertato le forze di polizia che, con un'apposita ordinanza, hanno incrementato i controlli, mentre lo stesso prefetto, Giuseppe Mario Scalia, ha esortato i ragazzi ad avere rispetto delle regole, chiedendo ai genitori di parlare con i propri figli perché, sottolinea, l'educazione è fondamentale. E proprio sul fronte dell'educazione si è mosso Fabio Molinari, dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Sondrio, che ha incitato tutti i presidi ad attivare una serie di incontri volti alla sensibilizzazione dei ragazzi su questi temi, che molto spesso stigmatizzano comportamenti in realtà pericolosissimi.